Nasce a Sanremo il primo centro per aiutare gli uomini che si sono macchiati di violenza. Vicesindaco, da dove nasce questo progetto? Questo progetto nasce dal fatto che come centro antiviolenza noi prendiamo in carico le donne, le diamo protezione, le diamo consulenza legale, psicologica e quant'altro, ma l'uomo maltrattante il domani può di nuovo ripetere la propria violenza o sulla sua compagna o su nuove compagne. Ecco mancava questo tassello, un tassello di un puzzle che era incompleto e oggi con WIDAV, che è un'associazione tra le più esperte in materia, lavoreremo sull'uomo maltrattante, lavoreremo con una presa in carico, con dei colloqui individuali, con del lavoro di gruppo, un lavoro che durerà più dell'anno, proprio per prendere in carico l'uomo, ma l'uomo compagno, l'uomo padre, sotto tutte le sfaccettature, per mettere sì che il domani sia più roseo anche per l'uomo.